Sostenere la lista per ciò che sta scritto nel suo simbolo, costruire l'altra Europa. Quindi nessuna concessione alla demagogia facile, usciamo dall'Europa, carichiamo sull'Europa tutte le responsabilità, ma dobbiamo ricostruire un'Europa che ha già nel suo contesto costituzionale qualcosa che ci consente di opporci alla riduzione dell'Europa all'economia. C'è la carta dei diritti fondamentali e quindi noi dobbiamo dire vogliamo una Europa che contempli anche tutto questo. Da Bruxelles non debbano venire per i cittadini soltanto richieste di sacrifici, ma anche opportunità ulteriori. Sono appunto i diritti. Seconda questione, noi dobbiamo portare a Bruxelles esattamente questo tipo di impegno, perché attraverso i diritti si contrastano anche i poteri economici. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto no alle pretese di Google, uno dei padroni del mondo e dunque l'Europa ha le strutture e la capacità politica, se la vuole spendere, per potersi opporre anche a quelli che governano il mondo senza avere nessuna legittimazione democratica. Terzo punto, questo tipo di iniziativa potrebbe contribuire, anzi dovrebbe contribuire all'apertura di una nuova fase costituente in Europa esattamente per far sì che le istituzioni europee contemplino anche l'orizzonte della democrazia e dei diritti e non soltanto la subalternità all'economia.